Organizzazione perfetta, tennis di qualità in archivio, la prima tappa di Ortona del circuito I Love Abruzzo. In finale il romano Gianmarco Ortenzi, classe 2000, si è imposto 6-4-6-0 sul classe 2005, già campione italiano Under-14 Andrea Meduri. Avanti però nel primo set per quattro giochi a zero. Complimento intanto per questa affermazione, eppure falsa partenza, poi grande reazione, rimonta, secondo set dominato. Sì, è stata una partita strana, partenza sbagliata, ero entrato nervoso, un po' teso, anche un po' teso perché sapevo che lui era molto bravo, piccolo, quindi comunque queste partite si fanno sempre sentire, però ero tranquillo, anche sotto 4-0 ero tranquillo, appena sono riuscito a sciogliermi, a prendere le giuste decisioni, in campo la partita è andata verso giusto, poi lui è un pochino calato, anche normalmente, essendo molto giovane, e da lì poi ho dominato. È stato avanti 4-0 Andrea Meduri, campione italiano Under-14, contro Gianmarco Ortenzi con classifica ATP 1.4, e poi 12 game di seguito, il tennis è incredibile, è uno sport veramente mentale. Quindi la testa, sintetizzando. La testa, c'era qualcuno che, insomma, l'allenatore di Djokovic diceva che l'80% nel tennis è testa, il 20% il fisico, forse non sono queste le percentuali, però sicuramente la testa, e anche oggi abbiamo visto che da un 4-0 si è passati a un 4-6-0-6 per l'avversario. Quanto ha pesato la maggiore esperienza? Sicuramente è stato un fattore determinante, anche la mia tranquillità sul 4-0 era dovuta al mio sapere di avere più esperienza e di poterla girare su pochi punti. Una valutazione a margine di questo torneo, abbiamo sentito le vostre parole all'atto della premiazione, soddisfatti in tutto e per tutto? Assolutamente, il livello dei campi, io ho girato, gioco da ormai quasi 16 anni, e campi così belli poche volte mi è capitato, e il resto, il contorno è strepitoso, io poi devo dire che in Abruzzo gioco sempre particolarmente bene, anche all'Aguila mi è trovato bene, qui bene, tutto presidente, collaboratori, tutto molto molto bene. Una bella formula, interessante, originale se vogliamo, ripetiamo i love, Abruzzo, tappa di Ortona, circuito itinerante, potremmo definirlo così, che continua? Circuito itinerante, in questo momento siamo a Tortoreto, ad Alba Adriatica, dove domeniche inizieranno le seconde categorie, appena partita la tappa di Chieti, c'è un pizzichino di sovrapposizione, la cosa interessante, statisticamente parlando, che le due finali sono state giocate da tre giocatori, non della regione, da un giocatore abruzzese, quindi vuol dire anche che giocatori di altre regioni, grazie a questa formula, sono venute nel territorio, sono venute da noi per giocare eventi sportivi. Il tuo modello di riferimento nel tennis? Federer, direi Federer. Non c'è dubbio, insomma. No, no, non c'è dubbio. Per classe, legazza. No, no, vabbè, decisamente lui, per forza. Senti, vedi da Roma, sei anche appassionato di calcio? Sì, infatti... Roma o Lazio? Roma, Roma, Roma. Infatti forse il bel risultato è grazie a Murigno, che ringrazio, che ha portato grande buon umore nella nostra tifoseria.